Pensare è stancante. Un team di ricerca di Parigi ha trovato la risposta. Il responsabile della fatica mentale è il glutammato, che si accumula nella corteccia prefrontale da possessioni medio-lunghe di lavoro intellettuale. Il glutammato è sia un alleato che una minaccia, perché partecipa all'attivazione delle funzioni cognitive, ma quando si accumula ha l'effetto opposto e abbassa drasticamente le nostre capacità di ragionamento. I neuroscienziati infatti hanno notato che a causa degli alti livelli di questa sostanza diventa più difficile anche prendere decisioni, si tende a fare scelte più facili per evitare di disperdere ulteriori energie. Ed è per questo che avere il pieno controllo cognitivo alla fine di una lunga giornata di lavoro mentale è più difficile, si diventa più sbrigativi, meno precisi, meno attenti, perché...